Musica E noi come associazione di categoria siamo al vostro fianco, siamo consapevoli della vostra situazione del genere dove oltre a tutte le problematiche legate alla pandemia ci sono queste regole Salve ragazzi, intanto grazie di essere qui, come sapete è iniziato subito questo gruppo di associazione spontanea che si è creata il tutto è avvenuto facendo questo passaparola Buongiorno a tutti carissimi colleghe e carissimi colleghi Per me è brutto vedersi arrivare Madrato che ci avevano promesso con sei mesi di chiusura del 2020 perché siamo stati chiusi da marzo a giugno e poi da ottobre a dicembre Musica Libertà